Olla Yes, Antanas believes that evil can be banished from humanity, but the ones he exorcised, they don't seem to be completely human anymore. There must be another way. What are you researching? All these unfortunate people, infested by demons. I have to help them. There must be a way to help them. You promised to give me some potions. I can't do much with the laboratory in a state like this, but I may be able to enhance your potions. Perhaps if you help me a bit more, I could give you even better potions. Hell, now. I need more fresh Rogar blood so that I can study its properties. I think I need their hearts. Bring me some Rogar hearts, but I suspect they'll need to be bigger ones than from the Rogar in the monastery. How many do you need? At least four, but the more the better. I'll see what I can find. Thank you. Welcome back. Do you... I think I've found them. Here you go. Yes, that's perfect. Uh... This healing potion is powerful stuff. Give it a try. Ok, I need to go guard down. I think that's the best we can do without causing any side effects. I hope the potions will serve you well. No. Ma che che è? Ma che che è? Cosa ha fatto sto tizio? Ti ho dato i cuori però? Teoricamente ci ha potenziati le pozioni che abbiamo adesso, proprio dovrebbero curare di più. Molto teoricamente eh, dovrebbero curare molto di più, molto teoricamente. Proviamo a fare un giro d'antana stesso. Vediamo, il capitano ci aveva chiesto, figa con la spodone, ci aveva chiesto dei tatuaggi dei disertori, quei, quei tre che erano nella dimissione e alla fine sono morti, o erano quattro, un po' più. Cosa c'è ora? L'hai affrontato con quei disertori? Non scremmo molto. Qui, prendi i loro tatuaggi. Quindi hai davvero fatto, eh? Non male. Qui, prendi questo amulet. Potrebbe essere di uso. Bene, il grande fordello. Wow, cosa fa? Quello che andava al ciondolo l'avranno concernata a Rieti, in grado di restare la carica di uno stallone selvaggio. Stallone di media dimensione ma pur sempre uno stallone. Teoricamente questo ci aumenta, dovrebbe aumentarci, se non sbaglio, la stabilità. Molto teoricamente ci dovrebbe potenziare la stabilità, molto teoricamente, eh. Non sono sicuro di ciò, ma dovrebbe farlo. Ci mancano tanto, adesso che mi ricordo che ho un pezzo di tatuaggio. Cioè, non un pezzo di tatuaggio, un pezzo di planetario. Vediamo se fa qualcosa parlando col tizio. Ci avrei giurato! Cosa hai trovato? Un pezzo di tatuaggio, che si potrebbe essere... Grazie a tutti. Perchè sapete che c'era un pezzo strano davanti al citadel. Un pezzo, tu dicevi? Casi c'è un pezzo di nato? Non è sicuro. C'è... Un pezzo di nato. Questo è un pezzo di nuove. Ho trovato qualcosa. E' uno dei pezzi di tatuaggio. Mi ha dato, e io posso riuscire. Ecco. Grazie. Grazie. Usando il mio dispositivo, posso riuscire alcune delle shadow che occludono il tuo futuro. Guarda. Perchè Cars Ah Questo qua Ok Ok non ho mai detto molto Mi ha detto che ci sono due rogan Due rogan Penso uno si riferisca al boss finale penso uno Quindi togliendo uno è rimasto un altro Braccio sinistro destro del tizio Schiena chiusa Pareva Te pareva Questo? Oh ce l'ho fatta arrivare Avete presente qua l'entrata da discesa coi tizi che sparavano le frecce Dove c'è la statua Ecco l'igliotto dove sei andato a infilare Scald Scald Rohack Take Crook Ma Scald Rohack Crook Ho fatto un piccolo scudo Postura Le chiede forza però Le chiede forza Le chiede forza Però è bello potente Però è bello potente Tempo di divertirci E' come col DLC labirinto E' come col DLC labirinto Non dovremmo trarne molto beneficio Questa cosa qua Teoricamente Cos'è questo? E' il precipizio per suicidarsi? Non ho capito Ah no Ah no Guarda guarda ho capito ho capito Non mi piace tanto sinceramente sta No no Non si può guarda Non si può Non si può Non si può Che male ho E questo da quando l'ha messo? Oddio gli spiriti perché? No eh No ma sono tutti spiriti E qui sono tutti spiriti Perché? Oddio è stra resistente eh Cazzo non vedo Vedo letteralmente una ceppa di minchia Quell'angolino Porca ma quanto resistente ero Eh frammenti qua Ho rischiato le minchiappe Per due frammenti Porca vacca Pensavo che c'era Ogni inchio della costruzione Adesso C'era qualcosa di nuovo oggi Ma posso sguire che non era lì prima Ho esprimato con questo meccanismo peculiar Che stranamente influisce la magia che mantiene in te Non c'era la possibilità Qualcuno funziona o non Ma Ma Stiamo scherzando vero? Non so Ah porca vacca Sti pezzi di Ho capito perché Sti pezzi di merd Rispondono al contraattacco Quindi se loro prendono troppe sberle Porca vacca Se loro prendono troppe sberle Rispondono porca vacca Che non si può fare Si può toccarlo normalmente Guardalo Spadino Questo cazzo C'è devo fare così devo fare Cioè quanto resistente sei amico? Dai scemo È indeciso Il nostro amico è indeciso OOOH Eh dai E va anche più lontano che cazzo Ma chi è che ha fatto questa intelligenza artificiale? no 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 io vado a mettere giù almeno vado a mettere giù almeno le mie anime prima che muoio e perdo tutto aspetta 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 fatemelo usare va ne ho un sacco ne ho ma le punti incantesimo ne ho un sacco ne ho attenzione quanto male fa sta roba donne critici non fa nulla invece l'attacco è lentissimo però 143 anche con lo spacca schiena andiamo nettamente giù andiamo con quello teoricamente dovremmo avere anche un altro che questo va richiede 28 questo non sembra male però eh la bacchetta penso che arriveremo 3 15 ho 7 benedizione finalmente chiamiamo arma dopo una vita fino a no 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 aspetta che lo sta attento a un prendere l'npc qua fa così e niente di spicciare Faffa cagato, non è una roba Quanto la porta è qui, già? Ancora sveio? Fa male sì, fa male come fa male Voglio vedere che questi fulmini se li prendo fanno qualcosa Caspita non vogliono dire, dammi un consiglio Anzendi al secondo anello, ok Faccio accedervi al secondo anello se non riesco a accedervi Ho che fare, scrigni chiusi, scrigni chiusi Oooooooohhh Che palle Che palle che sono sti cosi E niente ho girato la leva due volte E me lo sono ritrovato qua E dall'altra parte Un altro Dai questi vanno giù con questo Ma hai due lame E riescono a far perdere Stabilità Veramente riescono a far perdere Stabilità Riescono a far perdere Stabilità Madonna che lentezza Che sta succedendo? Non c'è mai più Ha fatto l'animazione Avete visto che bug Cioè si è fermato E poi dopo E ripartete con l'animazione Oh la Dai Skatry Però danno un sacco di esperienza Qua si fa farm Bella bella Di tizi Faccio prima saltare Spaccare i barili saltando Asciometro Ma va Sono lenti come la merda Porca Porca zuzza Che male Dammi lontano Ma perché fanno Sti versi qua Quando muoiono Buongiorno Buongiorno Penso che Stai schicciando giustamente Stai schicciando giustamente Stai schicciando giustamente Pumzecca sta cosa Eh va avanti da solo Il mio personaggio Non posso neanche smuoverlo No Devo aspettare tutto il tempo Qua Adesso Penso che Rappi riuscire Quella roba No No Questa vita Amici Vediamo quanta esperienza Non è che facciamo tanta esperienza Non è che facciamo tanta esperienza Non è che facciamo tanta esperienza Non è che facciamo Non so se non c'è una roba segreta negli angoli niente Vai, mi sto andando ultra aggirita, non dovrei andare ultra aggirita su tutto però Cazzo, cazzo nell'angolo Era un trapolozzo, eh! Che sta succedendo? Dio addio 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 addi addi non so come ho fatto sopravvivire ma va bene ho visto che ho fatto sopravvivere ma va bene e niente devo prendere questa piece ovunque and kilo and f utilise Ma scusa Sto arrivato fin qui E poi Ok è normale allora Ah ho sbagliato Mi ha messo Ah 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 Grazie a tutti. 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 C'è un po' troppa gente mi sto tirando intorno. Esattamente, un po' troppa gente. Cosa mi ha toccato? No, c'è un po' troppo... C'è un po' troppo... C'è un po' troppo...